A filo diretto con gli ascoltatori, il benvenuto negli studi Temporadio va Beatrice Morandi, nuovo assessore dei Comuni dei Montichiari. Benvenuta. Buongiorno a tutti. Allora, assessore ai lavori pubblici, poi? Edilizia privata, urbanistica e attività produttive. Insomma, un assessorato tra i più scomodi che ci possono essere. Diciamo di sì. Possiamo dire, fondamentalmente. Allora, gli ascoltatori sono sempre invitati a partecipare alla trasmissione, ricordiamo alcune coordinate, numero per sms e messaggi whatsapp che è il 338 17 19 105 per telefonarci fate lo 0376 63 17 09. Usate anche la pagina Facebook, il Gazzettino Nuovo e Temporadio dove siamo in streaming quindi ci potete seguire e scrivere contemporaneamente. Allora, lei, abbiamo detto appunto, assessore nominata da pochissimo tempo, due mesi. Quasi due mesi, il 24 maggio. Il 24 maggio, quindi auguri tra tre giorni insomma per il comple mese. Dunque, per quanto riguarda... Non è pentita in questi mesi? Non ancora, diciamo così. Appunto, quindi benvenuta ancora una volta. Possiamo parlare del PGT? Perché del PGT di Montichieri, il piano governo del territorio di Montichieri, se ne è parlato in quanto c'è una variazione, poi un aggiornamento se non mi sbaglio. Sì, c'è la revisione, è stata avviata la procedura di revisione da qualche mese e diciamo che il punto in cui siamo ora è il seguente. Si è conclusa da poco la fase interlocutoria, quindi quella di ascolto dei cittadini. In realtà è stata estesa anche a tutte le associazioni di categoria, ai comitati di quartiere di frazione. Quindi si sono raccolte tutte le istanze e si sono già valutate una per una, chiaramente con l'attenzione di cui necessitano. E adesso siamo al punto in cui stiamo affidando all'estensore del PGT al progettista quelle che sono le nostre linee guida. Poi insieme a lui, adesso arriva la parte un po' più delicata, un po' più concreta di tutta questa procedura che è in atto, nella quale vedremo insieme a lui che al polso della situazione, che conosce la materia, conosce gli strumenti adeguati per mettere in pratica quelle che sono i nostri desideri come amministrazione. Perché la cosa strana del PGT è che è uno di quegli argomenti, un po' come il bilancio, che risultano un po' ostici ai cittadini, più che ostici, anche un po' sconosciuti, un po' difficili, sono temi difficili da approcciare per la gente comune, anche perché si pensa che siano cose un po' avulse dalla realtà, quando invece sono gli strumenti più concreti che l'amministrazione ha poi per governare proprio sul territorio, quindi per gestire tutte le situazioni. PGT c'è di una estrema importanza perché ci sono delle differenze da città a città, ci sono, sappiamo benissimo, città più belle e meno belle. Diciamo così, con un parere sottoscritto, alcune sono brutte proprio e altre sono stupende, ma adesso più belle e meno belle e guarda caso i tassi di delinquenza, di suicidio, eccetera, sono sempre più alti nelle città meno belle che non in quelle più belle. Un motivo ci sarà. Ah beh sì, in effetti, tanti sono i fattori che si riflettono sulle persone anche a livello estetico dell'ambiente in cui vivono, quindi chiaramente anche quelli hanno la loro importanza. Non mi stupisce molto, ecco, nel senso che non fatico a crederlo. Per cui, ecco, appunto, PGT, mentre parlava, ho pensato forse perché il sindaco è un professore, è stato dirigente scolastico, eccetera, mi è venuta in mente Pienza, per esempio Pienza è un comune in Toscana che fu costruito cercando di fare la città ideale, proprio studiarono quanti metri quadrati deve avere ogni cittadino, eccetera, eccetera. Chiaro, diventa una cosa ideale, insomma, un po' una chimera se vogliamo, però obiettivamente, quindi voi avete in pratica ascoltato i cittadini, chiesto quello che vogliono i cittadini, affidato tutto a un progettista, se non mi sbaglio, di Milano, se non mi sbaglio. Sì, è di Milano. E poi adesso, quindi traccerete le linee guida e poi discuterete di questo. Cercate, insomma, Montichieri di renderla più a misura d'uomo di cittadini. Sì, 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 abbiamo delle idee con le quali poi siamo stati, sulla base delle quali siamo stati eletti, quindi l'idea è anche di portare avanti quelli, di concretizzare quelle, cioè l'idea che abbiamo della città futura. Quindi l'importanza di questo strumento, che sembra una cosa quasi asettica, di gestione del territorio, ha anche un lato che io amo definire un po' poetico, nel senso che è possibile attraverso questo strumento, poi dopo chiaramente incontreremo tante difficoltà, tanti vincoli, tanti ostacoli, però il nostro desiderio è quello di utilizzarlo, non giusto per tradurre le richieste dei cittadini, che possono essere richieste molto puntuali, molto personali, legate al terreno, da rendere edificabile a fianco, ma proprio anche ispirandoci ai grandi principi. Quindi stop al consumo di nuovo suolo, che poi tra l'altro significa mettere, concretizzare quello che prescrive anche una nuova legge regionale, quindi l'occasione è stata quella di adeguare anche lo strumento urbanistico del comune a delle leggi che nel frattempo sono entrate in vigore. Ecco, alcune di queste linee si possono dire, per esempio, avete lo stop del consumo di nuovo suolo? Assolutamente sì. Quindi in pratica c'è il divieto di costruire o si costruisce eventualmente là dove si ristruttura? Esatto, non si può consumare ulteriore suolo rispetto a quello che è già previsto all'interno del PGT vigente. Questa è l'interpretazione, una delle interpretazioni, perché poi chiaramente come tutte le leggi vanno interpretate, quindi c'è una scuola di pensiero che dice stop a qualsiasi nuova richiesta, addirittura qualcuno che dice stop anche al territorio che è previsto all'interno del PGT vigente, in cui si possa edificare ma in cui non si è ancora edificato e invece chi dice no, quello è già assodato, che si possa edificare. Quindi adesso è questa la fase un po' più complessa nella quale capire tutta questa serie di aspetti ma anche come concretizzare l'altro principio guida che abbiamo che è quello della riqualificazione e rigenerazione urbana. Quindi cerchiamo di favorire ciò che di edificato c'è già e anche di far sì che non diventi ulteriore zona di degrado, soprattutto nel centro storico ci sono alcune situazioni di degrado anche a Montichiari che andrebbero un attimino riprese. Certo. Lei ha parlato delle istanze dei cittadini, tra l'altro Montichiari e i comitati di quartiere. Possiamo allargare anche questo, quindi i cittadini che sono parte attiva e i comitati di quartiere e segnalazioni varie. Possiamo imbastire e andare in pausa, adesso tra un po' andiamo in pausa, imbastiamo il discorso. Allora diciamo che i comitati di quartiere sono una novità della nostra amministrazione, sono stati istituiti in settembre, quindi autunno dell'anno scorso e devo dire che sono una grossa novità, sono molto molto attivi e siamo molto contenti e soddisfatti nonostante fossimo stati parecchio criticati per questa scelta perché chiaramente laddove in qualsiasi situazioni in cui si allarga la partecipazione ci si espone di più alle critiche e questo in parte è vero, a volte avviene, però c'è tutta una serie di benefici che ne conseguono che sicuramente mi fanno dire che ne vale la pena invece. Benissimo. Fermiamoci un attimo, allora con l'assessore Beatrice Morandi del comune di Montichiari ci troviamo tra un po' di minuti nella seconda parte. Questa è la seconda parte di Filo diretto con gli ascoltatori che stiamo trascorrendo con Beatrice Morandi, assessore del comune di Montichiari. Avevamo imbastito il discorso dei comitati di quartiere, c'è un messaggio di Anna che mi ha fatto sorridere perché dice che i comitati di quartiere a volte ricordano i consigli di condominio in cui c'è il vicino che rompe le scatole per una cosa sulla quale si è eccetera eccetera e intanto restano le questioni importanti. Chi ha la fortuna di non vivere in condominio resti a vivere autonomo. Beh sì dai, sì effettivamente anche io vivo in condominio e non è sempre facile dividere lo spazio con gli altri. Litigi terribili per una lampadina delle volte, cose di questo tipo. Sì sì sì, o il bambino che gioca, la musica un po' più alta, problemi di convivenza normali dai. Ma no dai, non direi, non mi sento di sposare al giudizio della signora Anna dai. Nel senso che sicuramente i comitati sono molto puntuali nelle segnalazioni ma questo è anche un bene per noi perché preferiamo avere, cioè a volte sono così precisi che mi segnalano il numero del palo del punto luce però è una facilitazione in realtà. Ha scoperto una cosa nuova, sono numerati i pali? Sì. Ah, questo non lo sapevo. In teoria sì, oppure comunque è sufficiente dire il punto luce di fronte al numero civico tagli e tagli della via a pinco pallo, è già sufficiente insomma. Ci permette di intervenire molto più facilmente anziché avere la segnalazione nella via X non funzionano i lampioni e lì si perde molto più tempo. No, è solo una bella novità nel senso che costituiscono un po' un filtro tra l'amministrazione e i cittadini. Io infatti suggerisco spesso ai cittadini che fanno le richieste singole di rivolgersi al comitato di quartiere di riferimento, nel senso che... Che poi arriva appunto... Sì. Non occorre andare in comune, fare code eccetera. Un po' diventa più facile per loro, un po' è anche un motivo per facilitare un po' la socializzazione, l'aggregazione che di questi tempi è sempre più difficile. Quindi anche il fare gruppo, il fare squadra e poi insomma sono veramente efficaci dai. Allora, PGT con più o meno cemento assessore abbiamo già risposto, è arrivato questo messaggio, probabilmente era arrivato prima che ne parlassimo. Allora, le chiedono anche fibra ottica, sogno, realtà, questo è un altro argomento, magari se vuole rispondere al volo... Sì, no, 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 sta arrivando, anzi hanno già completato le canalizzazioni in una delle frazioni e adesso si stanno spostando verso la seconda. In realtà se ne occupa la mia collega Soldini, però so per certo che fine estate, inizio autunno sarà veramente una realtà questa, quindi una bella realtà. Sicuramente. Sia per i privati che soprattutto per le aziende. C'è una proposta, diciamo, anche perché non fate un parcheggio sotterraneo in piazza così almeno trovo parcheggio, credo che sia una questione di... È una delle grosse questioni, i problemi del parcheggio nel centro storico, ma è così in tutte le città, in tutti i paesi, cioè è una delle grandi questioni. Ma a Montichieri non c'è parcheggio o... No, in realtà c'è, no, no, sorrido perché sì, il parcheggio è sotterraneo, però in realtà piazza Treccani è tutto parcheggio, non direi che non c'è, dopo dipende non solo la signora o il signore, dove abiti esattamente. Obiettivamente c'è la zona di Borgo Sotto in cui il parcheggio è un po' un problema, ma come per tutti i centri storici. Poi c'è chi si lamenta della condizione delle strade. A Montichiari mancano le strisce, sono sbiadite in centro, anche dice. Allora, quest'anno il piano asfaltature è stato abbastanza corposo e tra l'altro mi sono avvalsa delle segnalazioni proprio derivanti dai comitati di quartiera, quindi si faranno interventi in tutti i comitati, in tutte le macrozone che sono otto del paese, quindi anche tanta attenzione alle frazioni che lamentano spesso di sentirsi un po' non proprio al centro dell'attenzione dell'amministrazione e quindi stiamo andando anche in quella direzione per coprire quella mancanza. Dall'anno prossimo stanzieremo più soldi, soprattutto anche perché più fondi anche per i marciapiedi, perché obiettivamente i marciapiedi a Montichiari non sono molto curati, c'è poi da distinguere tra problemi più estetici, marciapiede in condizioni pessime dal punto di vista estetico e invece quelle in condizioni pessime dal punto di vista della sicurezza, lì sicuramente è priorità intervenire. Certo, allora saluto Vittorio che mi ha dato diversi messaggi, adesso gli chiedo scusa se l'accorciamo, però lui se la prende con lo shunt fondamentalmente dicendo che la tavola è solo l'ennesimo espediente per nascondere scorie e schifezze, porta una serie di esempi reali, anche scoperti dice anche a Brescia città, è vero, però possiamo parlare insomma dell'importanza invece dell'eventuale dello shunt e della tav a Montichiari dove c'è un aeroporto per esempio. Sono molto contenta di toccare l'argomento, nel senso che per quel che riguarda la tav sappiamo tutti che il progetto definitivo, quindi quello attuale al momento prevede la realizzazione dello shunt, quindi bypassare Brescia città. Il fatto qual è? Che l'ultima dichiarazione del ministro del Rio, che sicuramente ha tutta la possibilità di avere voce in capitolo rispetto a questa questione, che risalgono ad aprile 2016, quindi relativamente recenti, dicono che lo shunt non si farà, quindi in realtà non è poi così attuale questa previsione. Ripeto, attualmente è prevista la realizzazione dello shunt, però se il ministro dice che non si farà, si apre un grosso punto di domanda. A tal proposito posso dire che noi stiamo intrattenendo i rapporti col comune di Brescia, che è l'altro comune interessato, perché giustamente loro vorrebbero la fermata in città. Loro non la vogliono fondamentalmente, diciamo che Brescia non la vuole. Non vuole lo shunt. Ah ok, non vuole lo shunt, perché loro chiedono il passaggio in città, perché si tratta più che altro di un traffico passeggeri, quindi se si tratta di traffico passeggeri, chiaramente è più appetibile la fermata in città. Possiamo dire che c'è un po' di maretta, nel senso che obiettivamente Brescia non vuole lo shunt, Brescia a suo tempo disse che non voleva la fermata sul Garda perché avrebbe penalizzato Brescia, poi un ex assessore della provincia che adesso sta in regione vuole la fermata di Senzano, cioè obiettivamente... Sì, c'è un po' di confusione. Devo dire che però ha proprio notizie freschissime per quel che riguarda la posizione di Montichiari, mi portano a dire che proprio per il dialogo che abbiamo instaurato con Brescia, preso atto delle parole del Ministro, che sicuramente se si è sbilanciato a pronunciarle porteranno a nuovi sviluppi in futuro e quindi io non escludo che se lui si è sbilanciato a fare una fermazione del genere il progetto possa essere rimesso in discussione, anche perché so che RFI, Rete Ferroviaria Italiana, che è il gestore, sta conducendo degli studi di prefattibilità sull'ipotesi dell'uscita 4 binari da Brescia, quindi fermata a Brescia, no shunt e stanno valutando un'alternativa allo shunt anche in termini economici, cioè quanto si risparmierebbe non facendo lo shunt, non realizzando lo shunt e che cosa si potrebbe fare di alternativo con questi soldi. Quindi questa cosa è al vaglio di RFI. Al momento noi aspettiamo i risultati di questi studi e chiaramente quello che mi sento di dire per quel che riguarda la posizione di Montichiari, che aveva sposato lo shunt anche in maniera abbastanza formale con una delibera di consiglio provata a settembre 2014, noi non abbiamo nessun genere di problema a dire, se il ministro dice che lo shunt non si farà, lo shunt non si farà, va bene, noi quello che interessa Montichiari non è shunt sì, shunt no, ma il collegamento di Montichiari con l'alta velocità, soprattutto per quel che riguarda le grandi infrastrutture che abbiamo, come dicevi tu, aeroporto sì, ma soprattutto il centro fiera, nel senso che in questo momento il centro fiera di Montichiari è il centro fiera dell'intero territorio bresciano, quindi noi vogliamo essere collegati. Ma c'è spesso una grande polemica dietro, io chiedo scusa per il fuoriprogramma, se lo sa perché non è detto, l'elicottero di soccorso, ex 118 attuale 112, era stato proposto anche lì in Montichiari per esempio. Sono sincera, non lo so. Ecco, per lì c'è un'altra questione per esempio perché adesso per legge dovrà diventare funzionante anche in notturna e chiaramente a Brescia, tra pali della luce, fili di alta tensione eccetera, non può decollare e atterrare e quindi si pensa, si sta cercando una pista fuori. Una soluzione. Potremmo candidarci anche a questo. Però anche lì ci sono delle resistenze, adesso non conosco bene la questione perché per me volevo sapere. Allora, quindi voi fondamentalmente, cioè che passi per Montichiari o non passi, l'importante è che ci sia un collegamento rapido. Sì, quello che interessa Montichiari all'amministrazione è il collegamento. Tipo una metropolitana o qualcosa di questo tipo? Ma anche qualcosa che non sia metropolitana perché non so quanto sia fattibile, cioè sarebbe una bellissima cosa la metropolitana chiaramente, però penso che non sia fattibile dal punto di vista economico perché da quello che so la metropolitana, il tragitto della metropolitana deve essere per forza sostenibile soprattutto dal punto di vista economico, quindi dal punto di vista della densità di utilizzo. Cioè già adesso per futuri sviluppi, della metropolitana di Brescia, io credo che l'unico pezzettino in più possibile che continui a mantenere la sostenibilità dell'infrastruttura possa essere proprio lo sviluppo verso Roncadele. Ma questa è la mia opinione? Sì, sì, certo. Allora, leggo diversi messaggi, adesso li unisco un attimo per una questione di tempo. Chi chiede le piste ciclabili? Di solito non le usa, i ciclisti sono sempre in mezzo alla strada in fila per tre. Firmato Veronica che salutiamo, possiamo essere d'accordo anche specialmente quando quelli che si allenano magari in fila per tre effettivamente danno un po' fastidio. Poi attenzione alla ciclabile di Vighizzola, magari fate venire i vigili perché ogni tanto c'è gente che parcheggia sulla ciclabile, dice Daniele. Anche lì purtroppo non solo a Montichieri succede che la pista ciclabile diventa... Eh, questa non è una bella cosa. Poi ancora, il sindaco Fraccaro sta facendo un ottimo lavoro per la nostra Montichieri, quindi può ricordaglielo anche. Lo salutiamo. Aree edificabili, qua torniamo al PGT, abbandonate con erbacce, topi, serpi. Fate qualcosa. Eh sì, ci sono, come dicevo prima, ci sono delle zone obiettivamente di degrado dove sono delle situazioni annose, difficili anche da districare. Certo. Queste sono proprio le situazioni. Poi le chiedono, e le discariche? Con quattro punti domande. Le discariche? Le discariche sappiamo tutti la situazione in cui versa la nostra città, ce ne sono tante, ce ne sono troppe, chiaramente non è per fare facile retorica, però c'è chi dice, vabbè, ma le discariche servono. Sì, servono le discariche, perché comunque per quanto si vada verso un sempre maggior riciclo, abbiamo anche una qualità di vita, questo dobbiamo dircelo, che non permette il riciclo più di tanto, nel senso che siamo abituati al classico esempio, è lo smartphone, che per smaltirlo è un disastro, ma nessuno ne tiene conto, perché obiettivamente siamo inseriti in uno stile di vita, diciamo uno stile di vita che non ci permette di fare magari la vita che sarebbe bello fare. Un smaltimento da qualche parte bisogna farlo, la discarica serve ancora perché non si può riciclare tutto, quello che noi diciamo come amministrazione è basta discarica monti chiaro, perché chiaramente le discariche servono, però da noi ce ne sono veramente troppe. Allora, semafori di via Cavallotti, bisogna mettere un semaforo solo per i pedoni, questa è una cosa che le segnalano anche. Poi siamo in chiusura, comincio a ringraziarle, le leggo questo messaggio di Bruna che dice Assessore Brava, in pochi mesi sta facendo tanto. Grazie Bruna. Allora, siamo in chiusura, ringraziamo moltissimo Beatrice Morandi, nuovo Assessore del Comune Montichieri. Grazie. Grazie a voi. Ora esatta. Sono le undici.